Buongiorno a tutti, mi chiamo Federico Baglioni e questo sabato 8 giugno ci sarà una grande giornata di corretta divulgazione scientifica, si chiama Italia Unita per la corretta informazione scientifica, saranno una serie di convegni in numerose città italiane per parlare di temi scientifici molto interessanti e anche scottanti come gli OGM, come la sperimentazione animale e come le cure con staminali. Una corretta informazione scientifica è molto importante perché riguarda temi che sono fondamentali per il futuro del paese, quindi un dialogo tra scienza, società e cittadini è essenziale per risolvere queste problematiche. Scienza in rete ci supporterà e ci sta supportando nell'azione di divulgazione di questa giornata, invito tutti coloro che stanno guardando questo video a partecipare e a guardare sul sito www.italiaperlascienza.it tutti gli aggiornamenti che ci saranno nelle prossime ore. Spero davvero di vedere tante persone, non solo studenti e ricercatori, ma anche famiglie, madri, padri e nonni per discutere di temi che in fondo interessano tutti.